se lui va in giro, c'è abbia lento io ho 90 kg in giro un po' un po' un po' adesso andiamo in là si per vedere siamo giusto un pelino sporti ma si ma io vedo che aveva tutta la piazza e lui mi vedeva ma deve anche lei di dire, lei è un corte della misura del polino di norma dei pretended la discriminazione a il c Grazie.